Le stranezze del campionato, il Sassuolo che vince 5 a 2 a San Siro batte il Milan, il Sassuolo che batte l'Inter a San Siro 2 a 1. Il Sassuolo è davvero forte, dopo 4 a 2 all'Iventus ha segnato anche due gol all'Inter. Tomas! Va bene, noi abbiamo la pubblicità, poi riparto ovviamente da Luca che con il suo proverbiale nell'uscio ha fatto sicuramente gioire tanti tifosi del Sassuolo. Dall'altra parte c'è Filippo che bisognerà un po' analizzare, anche questa prima sconfitta stagionale dell'Inter, nulla di preoccupante, nulla di trascendentale, però insomma in qualche modo indicativa per una squadra che probabilmente non ci si aspettava potesse perdere proprio stasera davanti al proprio pubblico. Io saluto e ringrazio intanto da Udine e Lorenzo Petizziol, Lorenzo è stato un piacere. Piacere mio, grazie, saluto tutti allo studio, buona serata. Ciao Lorenzo, ciao Tiziano, ciao bello, ciao a tutti, ciao Gianluca, la cravata è tua, la cravata è tua. No, no, tienitela, portatela ogni partito del Napoli, mettitela. Ciao, buona serata. Grazie, grazie mille a Lorenzo Petizziol, Gianluca saluto anche te, non ti sto... Con grande piacere, con gioia, vi abbraccio forte, ci vediamo sabato, anzi no, ci vediamo venerdì a Casa Biscardi. Eh, bravo, 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 20.45, venerdì a Casa Biscardi. E sabato Lecce-Napoli. Va bene, va bene, una bella due giorni a tinte azzurre, quelle che ci aspettano qui su Sette Gold. Grazie anche ovviamente a Gianluca Vigliotti per averci raccontato. Napoli Udinese, due minuti lì nella regia, ovviamente non vi davo conto, ma finale anche quello tra Lazio e Torino. Ha vinto la Lazio 2-0 con i gol di Vessino e Zaccagni. Ripartiamo da qui. Eccoci qui, noi insieme siamo nel post partita di questo turno infrasettimanale di campionato. Diamo un'occhiata alla classifica perché si riparte sempre da lì per capire insomma come si evolve. È una classifica che dice cose importanti perché dice che l'Inter ha perso la prima partita dopo cinque vittorie consecutive e che di conseguenza ovviamente c'è un Milan che va a prendere l'Inter in testa della classifica. Milan vittorioso per 3-1 a Cagliari nell'anticipo delle 18.30. Il Napoli che rialza la testa, eccola qua la classifica di Serie A con la Juventus che beneficia della vittoria di ieri. Si riporta a quota 13, classifica molto più compatta. Ha vinto anche l'Atalanta, 1-0 a Verona. Ha vinto il Napoli che si riporta sotto le grandi a quota 11, a meno 4 dall'Inter. Insomma, direi Paolo che per essere un turno infrasettimanale di cosa ne sono successe? Sì, molto interessante. Sull'Inter è chiaro che fa sensazione perché c'è stata la prima sconfitta raggiunta in classifica ma quello che mi ha favorevolmente impressionato è stato al di là del risultato è stato vedere giocare Sassuolo perché ha vinto una partita giocando a calcio dal primo all'ultimo minuto. Cioè non ha vinto una partita giocando sporco o per delle casualità perché si è difesa sempre alta e attaccato fino alla fine. Cioè è tornato diciamo il calcio di Dionisi che secondo me, guarda, è giustamente da considerare un erede di De Zerbi e di tutta quella nouvelle vague di giovani allenatori che fanno un calcio divertente e propositivo e migliorano i loro giocatori. Ecco, li migliorano. Però questo calcio non ce l'hanno tutti. C'è questa nouvelle vague di giocatori, poi c'è la Spalletti che invece ha 64 anni. Però vedere giocare Sassuolo questa sera è stato molto molto piacevole. No, per il resto sulla giornata devo dirti che ha convinto molto il Milan nel senso che Pioli lo scorso anno magari faceva un po' più fatica ad utilizzare i giocatori che aveva in panchina. No, quest'anno li sta usando di più e ha vinto con le cosiddette riserve questa sera e forse è stato un po' smentito anche lo scorso anno quando non utilizzava mai Adli. Poi lì non si è mai capito perché. Adli mi è piaciuto. Sarà bene, molto bene, migliore in campo. C'è questa narrazione che io non ho mai verificato, che lo scorso precampionato lui fece un ottimo precampionato nelle tournee Adli e poi aveva una discussione su una cosa di tattica con Pioli e poi è sparito dai radar. No, invece questa è una buona cosa, cioè Ocaforra, Ciucuese e in pratica poi questa sera Pioli ha confessato che la società lo ha accontentato su tutti gli acquisti. Quindi è il Milan di Pioli, a lui onore e oneri per i risultati. Ecco, bene, insomma. Filippo, credo che, per l'amore di Dio, perdere ci può stare sempre, e perdere anche in casa, anche, però come atteggiamento magari dell'Inter, una volta in vantaggio che mollasse così la presa, magari no. Sì, non credo che sia un discorso di concentrazione perché non è quello il pericolo. Credo che sia un calo fisico abbastanza evidente da parte di tutta la squadra. Un po' le avvisaglie c'erano state contro l'Empoli. E con la Real Sociedad in Champions. Con la Real Sociedad in Champions, con l'Empoli, poi però l'Empoli non ha, diciamo che non ha creato granché, non aveva il Berardi della situazione, l'oriente della situazione, quelle individualità che potevano crearti dei problemi nel momento in cui la forma calava o le gambe diventavano più pesanti. Oggi il Sassuolo ha dimostrato di essere una squadra ovviamente di un altro tipo di livello rispetto all'Empoli che quando l'abbiamo affrontato noi aveva fatto zero gol, oggi ha fatto il primo e aveva perso tutte le partite che aveva giocato. Sassuolo è una squadra tecnicamente nettamente superiore. Quindi quando hai un Berardi che ti accende, un Lorientè dall'altra parte che devi curare, il centrocampo con Mattias Enrica che ha fatto una grande partita di sostanza, la difesa molto attenta, giocatori fisici, giocatori comunque atleticamente molto forti, molto preparati, quando cali ti puniscono. Però abbiamo, secondo me, i meriti del Sassuolo sono evidenti, però per tornare all'Inter due episodi chiave. L'Inter è in vantaggio 1-0 al 45esimo, va all'intervallo in vantaggio, nel secondo tempo cala il ritmo ma Sommel prende un gol che non deve prendere. Sì, è vero. Un portiere deve risolvere una situazione del genere, la palla ce l'hai lì sul tuo palo, è una palla telefonata, tu non puoi fartela passare sul tuo palo che sei già lì sotto la pancia. E poi Frattesi, perché Frattesi ha l'occasione clamorosa per pareggiare e sbaglia lo stop, e a quel punto, sai, è il 75esimo, fai il 2-2, vediamo quello che succede, poi magari porti a casa un compari perché come se era messa andava benissimo, però hai tempo per cambiare l'inerzia della partita. Due episodi chiave che testimoniano la scarsa lucidità dell'Inter di questo periodo. Dobbiamo anche metterci l'ingresso di Sanchez, che non si entra così. Sì, però lo giustifico per una cosa, nel senso che in quel momento lì sono saltati tutti gli schemi, si va a confusione, Cerbi fa la prima punta, ci sta che un giocatore che entra a freddo in una situazione del genere, dove devi pareggiare senza nessun tipo di idea tattica, perché a quel punto è tutti avanti e vediamo quello che succede, Sanchez non è neanche un centroavanti di due metri che dice almeno prende una palla di testa, deve trovarsi i suoi spazi, sempre spalle alla porta, lo giustifico da questo punto di vista, non è facile. Tu invece Luca, stasera torri in quel di Sassuolo volando sull'autostrada praticamente. Esatto, ma sai la cosa, è che abbiamo visto tutti e due la stessa partita, ma io ho visto una partita completamente diversa da quella che hai visto. Una partita come? Completamente diversa da quella che hai visto Filippo. Cioè io ho visto un Inter che centrocampo non ha giocato, cioè è stata imbrigliata dal Sassuolo. Umiliata addirittura. No, è stata imbrigliata dal Sassuolo. Ah, ho capito, umiliata. L'unico spiraglio erano le fasce, dove comunque per il primo tempo ha aggredito molto. Poi se tu mi dici che l'Inter meritava forse di vincere, quando una squadra come l'Inter ti fa due tiri in porta, due tiri in porta e ti fa un gol, perché il gol che è arrivato di Dufres... Ma non mi dire, non mettermi in bocca cose che non ho detto. Io non ho detto che l'Inter meritava di vincere. Tu sei dicendo che Frattesi ha sbriato il gol, quello ha sbriato il gol. Eh, è la cronaca. Quello l'ha preso, il Sambra non è riuscito a tenere il pallone. Voglio dire, ha fatto due tiri in porta all'Inter, da una squadra come quella io mi aspetto di più ragazzi. Ma tu hai ragione, ma non stai rispondendo a quello che ho detto io. Ma io la dite, mi aspetto di più, mi aspetto a che aggredisca gli spazi. Io ho detto che il Sassuolo ha vinto meritatamente, non stai dicendo che io ho detto che l'Inter doveva vincere. Io ti ho detto che tu stai sindacando il fatto che comunque quel pallone di Frattesi doveva entrare. Eh certo, un giocatore come Frattesi lì davanti deve fare gol. Non puoi chiudere la partita, devi guardarla anche secondo me a livello un pochettino più... Provo a mettervi d'accordo, è chiaro che in una partita ci sono degli episodi e siccome non è una scienza esatta, gli errori li fanno tutti, i gol li sbagliano tutti, i partiti li possono anche sbagliare, no? Se c'hanno con causa, solitamente di tante situazioni puoi perdere. Ma secondo me il Sassuolo l'ha vinta col gioco, cioè questa è una cosa bella. Come non ci ha capito niente l'Inter stasera, non ci ha capito niente nemmeno la Juve. No, 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 ma io non dico questo, io ho fatto una mia valutazione, no, no, non mi permetto di dare giudizi, dico solo, che la forza dei giocatori del Sassuolo è la forza del collettivo. Cioè perché se tu li prendi individualmente, sono bravi, ma li metti in una squadra che gioca lunga, lontana nei reparti, a un certo punto il Sassuolo ha fatto un giro palla che sarà durato, cioè un palleggio fantastico. Ci sono gli elogi che vanno non solo ai giocatori, ma anche all'allenatore. Perché è l'allenatore che ti dà un impronta, un'organizzazione e fa delle scelte. Quindi onore al merito ai giocatori e anche all'allenatore. No, no, ma infatti, cioè, Dionisi l'ha vinta su Inzaghi la partita, ma l'ha vinta col gioco. Esatto. Poi mettici dall'altra parte che l'Inter magari aveva dato della visaglia tra Champions League ed Empoli di non essere più in quella condizione strabiliante delle prime quattro giornate di campionato, mettici una prestazione sopra le righe degli avversari. No, ma gli avversari hanno, io l'ho detto all'inizio della partita, l'ho detto anche adesso, probabilmente Luca stava ascoltando e non ha ascoltato me. No, no, io ti sto ascoltando. E allora hai ascoltato male. Io ho detto semplicemente che l'Inter, per la squadra che è in casa, ho detto che il Sassuolo ha meritato di vincere, ho detto che l'Inter era sotto tono, che era stanca e c'erano già state delle avvisaglie con l'Empoli, quindi se segui il discorso logico ti sto dicendo che l'Inter oggi non era brillante, non ho mai pensato di dire che l'Inter oggi meritava di vincere. Avete sentito uscire? Ho detto che però... Perdonami, una domanda, è demerito dell'Inter o merito del Sassuolo? Domanda. Ci sono le concause, c'è merito del Sassuolo che approfitta del demerito dell'Inter, sono le pari di calcio. E perché l'Inter ha sbagliato i gol con Frattesi, perché l'Inter ha fatto la partita... Ma scusami, io ti sto dicendo, cosa devo dire? Che il Sassuolo ha meritato la vittoria e che Frattesi ha fatto bene a sbagliare i gol davanti alla porta. Ma lei ha sbagliato anche il Sassuolo i gol. Appunto. Oddio. Adesso ve lo scrivo. Te lo devo scrivere. Il Sassuolo ha meritato di vincere, devo scriverlo sulla lavagna lì, ha meritato di vincere. Sto facendo una critica ai miei giocatori. Adesso sì. Ma l'ho fatta dal primo minuto, non adesso. Sto dicendo che Sommer non può prendere quel gol e sto dicendo che Frattesi non può sbagliare quel gol. Posso parlare bene del Sassuolo e criticare i tuoi errori dei miei? Non sto dicendo questo, non sto togliendo meriti al Sassuolo. Invece, può un portiere sbagliare e un giocatore sbagliare un gol? Secondo me l'Inter oggi ha cercato di vincere all'inizio e di recuperare la partita dopo troppo di individualità e non di squadra. E di individualità ci sta che puoi sbagliare, no? Perché nessuno è perfetto. Ha sbagliato anche l'Oriente un gol bestiale, anche prima quell'altro giocatore, il colpo di testa. Erlich. Però c'è proprio la differenza che questa sera l'Inter non mi è sembrato giocasse di squadra, no? Vedevi Dumfries che sulla forza fisica spingeva, provava. Sì, è stata meno squadra di altre volte. Sì, però le avvisaglie, ripeto, se abbiamo visto la partita con l'Empoli o quella con la Real Sociedade, le avvisaglie c'erano già. Infatti, quando prima di questa partita si diceva che l'Inter vincerà la sesta di fila, poi va a Salerno e vince la settima di fila, le prime otto le vince per forza. Io quando ci sono questi discorsi qua, io rimango sempre un po', capisco, perché mi sembrano sempre più gufate che analisi tecniche. Cioè, tu prima di dire che l'Inter le vince tutte, o che il Milan le vince tutte, o che la Juve le vince tutte, devi vedere anche le partite come stanno andando. Quindi, se l'Inter continua a convincere, io ti posso dire oggi con il Sassuolo siamo strafavoriti perché siamo proprio sulla cresta dell'onda. Non era così, erano due partite che l'Inter faceva più fatica del solito. Poi, stiamo parlando di sette partite in totale. I segnali che dici tu, io li comprendo molto bene e mi permetto anche di fare questa considerazione. Cioè, Lautaro deve anche riposare, perché sta tirando molte anche questa sera. Io l'ho visto veramente molto faticato. Con Arnautovic che si è fatto male, adesso per Lautaro e Turamma sono... Però devi avere il coraggio di farlo fiatare, altrimenti non ci arrivi in fondo. Certo, ma il calendario è questo. I giocatori sono quelli che abbiamo. Se Lautaro sta meglio di Sanchez, zocca Lautaro. Cioè, nel senso, Lautaro adesso non lo puoi tenere fuori. È vero che poi si è stancato, però in questo momento non vedo alternative. Perché o ti inventi classe in attaccante, ma non mi pare... Ma poi, voglio dire, i giocatori devono giocare anche quando non sono al 100%. Se no, cosa fanno i giocatori a fare? Cioè, magari al 70%, al 60%, dai quello che riesci. Voglio dire, nessuno è il Manchester City in Italia, quindi... Ok, però l'Inter ha diversi obiettivi, per cui devi iniziare a centellinare un po' le forze, soprattutto di un bomber come Lautaro. In certe partite dovresti avere il coraggio di tenerlo giù. Io credo, eh. Poi dopo magari non è una considerazione giusta. Però se oggi magari perdi lasciando Lautaro fuori, ti dicono, ecco, lasciato Lautaro fuori... No, ma non so, non credo che... Poi, per carità, Luca ha ragione, nel senso che quando lo vedi stanco è giusto anche farlo rifiatare. Poi, dentro lo spogliatoio, probabilmente ci sono anche delle valutazioni che vanno al di là della forma fisica di un giocatore, no? Però ci sta come idea, assolutamente. Però è difficile far riposare Lautaro e far giocare Sanchez, che probabilmente non ha i 90 minuti, che probabilmente non è ancora inserito nel gruppo come doveva esserlo, magari due anni fa, come poteva essere due anni fa. Però, comunque, come idea ci sta, assolutamente. Ma sta girando tutti, però, eh? Si, 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 si sta facendo girare tutti. In quel di Cagliari, credo che ci sia, Tiziano, un dato che è abbastanza lampante. La quantità di nomi citati. Cioè, significa che ce ne sono tanti da poter ruotare, da poter inserire, da poter gestire. È una bella cosa questa. E questo è l'aspetto estremamente positivo che viene fuori da questa prestazione e da queste prestazioni. Tu sei ad lista, anche tu? Dopo la partita di oggi, sicuramente sì. Ha dimostrato di essere un playmaker straordinario, la capacità di lanci di 20-30 metri sull'uomo, perfettamente confezionati, eccetera. E poi un altro aspetto, sempre a proposito dei meriti che ha avuto la squadra. Cioè, sono andati in gol un difensore e un centrocampista. Quindi anche questo dimostra che il tipo di gioco che esprime il Milan può portare alla segnatura anche i difensori e anche i centrocampisti. È altrettanto vero che si concede e si richieda sempre qualche cosa in fase difensiva. Questo è un dato dei fatti. Dovessimo giocarci, Paolo, una quantità minima. Tu dici Adli di nuovo regista contro la Lazio sabato? Ma Pioli ha spiegato perché non vorrebbe privarsi di Reinders, non vorrebbe spostare Reinders. Perché comunque da mezzala ha questi inserimenti, questa corsa, queste letture, che se lo tieni più basso davanti alla difesa, fra virgolette, a fare il play, lo perdi. E l'idea che da sempre Pioli, nelle scelte, nelle dichiarazioni, è di volere una squadra molto offensiva. E quindi adesso poi non so se nello specifico, però come lettura, se non la prossima alle prossime, io credo che Reinders continuava a fare la mezzala. Forse per il tipo di partita, Adli più verticale in una partita in casa con la Lazio, Musa più muscolare a Dortmund, così a naso. Se fa queste valutazioni, queste scelte, è possibile. Cioè Musa più potente, con più... Cioè servono un po' di chili là in mezzo a Dortmund, lui già parlava del muro giallo, quindi il clima che troverà in Milan. Può essere, può essere. Poi magari gioca Adli tutti e due, eh, non lo so, però così, boh, vista... Sì, sì, però ha speso buone parole per Adli, Adli ha fatto bene, e comunque ha un concorrente in meno, cioè nel senso di Reinders, intendo. Certo. Potenziale, eh, potenziale. Infatti lui dice, sono Musa e Adli a giocarsi il posto di Crunici in questo momento, quindi magari poi da capire nell'arco... Soprattutto nel corso della partita puoi avere dei sostituti che sono all'altezza, anzi, che forse ti possono dare un contributo in più. Certo, perché no? Però Musa, mi pare uno che abbia tempi di gioco e caratteristiche molto diverse da Adli, tu dici, e quindi va utilizzato. Sì, ovviamente. Però hai sempre Reinders, quello a cui lui non rinuncia, quindi magari quello che non ti dà la coppia Adli-Reinders, nel senso di giocate, ce l'hai solo con Reinders, ma magari Musa ti dà muscoli, ti dà più capacità di essere incontrista. Certo, sono due giocatori di gioco da Adli, no? Certo, molto diversi, sono due giocatori molto, molto, molto diversi. Però mi permetti di dire questo, cioè Musa, tra l'altro, è un giocatore che a me piace tantissimo, anche quando era in Valencia, è uno che comunque anche davanti alla difesa non gioca male, gioca bene, anche come play è stato utilizzato diverse volte. Sì, sì, ma infatti sarebbe una valida alternativa, Pioli dice esattamente. Ha però progressione, corsa e muscoli, che se tu lo tieni lì lo perdi in la zona del campo, hai capito? Bravo. È un po' come il discorso che si faceva... Non sei simpatico, ma sei competente. Oh, meno male. È un po' il discorso che si faceva di Locatelli per la Juventus, no? Che magari, facendolo giocare come playmaker, magari perdevi gli inserimenti, però effettivamente gioca così bene che non poi non è... Chi dici? È un discorso che si faceva tempo fa sulla posizione di Locatelli, della Juve, che poi lo perdi nei inserimenti, però sta giocando così bene in quel ruolo che ormai lo lasci lì. Ma Locatelli, secondo me, non è proprio del tutto convincente, in valore assoluto come play, eh? Sì, sono d'accordo. Sta giocando bene sia in nazionale che anche nella Juve. No, ha fatto bene l'ultimo in nazionale. Eh, però nella Juve, insomma, non lo so, parliamo di Juve, cioè di grosse squadre. Per adesso Allegri continua a vedere Fagioli-Menzara. Sì, più Fagioli-Menzara. Alternativo a Miretti. Eh sì. Però io so che c'è anche un pensiero, anche di Spalletti, su Fagioli, per la nazionale, ma un po' come regista, più che come Mezzara. Ragazzi, prendiamoci due minuti, andiamo lì alla regia, in attesa di Simone Inzaghi da San Siro. Chiudiamo il cerchio per quanto riguarda questa giornata di campionato. Diciamo due cose anche sulla prossima, perché ci sono ancora tre partite da giocare domani sera. Trappaterizzata, per quanto riguarda gli eventi principali in ordine di tempo, la vittoria del Milan a Cagliari, la sconfitta dell'Inter in casa contro il Sassuolo e la vittoria del Napoli 4-1 in casa contro l'Udinese. Un Napoli che, in qualche modo, direi, rialza la testa, no? Perché si era fatto un gran parlare. Per carità, Napoli-Udinese a San Paolo, se avesse sbagliato anche quella, ci sarebbe stato un po' da preoccuparsi, no? Ah, vabbè, certo. Aveva bisogno di una vittoria. Io però credo, e se non ho visto la partita, però credo che lì l'ambientino sia al di là della vittoria di oggi. Non credo che la vittoria di oggi possa calmare un ambiente che ha avuto tutti questi problemi negli ultimi dieci giorni, in due settimane. Non lo so, poi non vivo l'ambiente Napoli, quindi non mi permetto. Però da quello che ho visto, letto, tutte le polemiche che ci sono state, sostituzioni, TikTok, MicatikTok, comunicati, Garzia e i tifosi contro l'allenatore. Non so se tutto questo può essere mitigato da una vittoria con l'Udinese. È da capire, da capire quello che succederà. Anche perché, insomma, lo stesso Gianluca ha cercato di fare il pompiere questa sera, ma effettivamente la situazione è andata un po' a degenerare, perché a un certo punto un giocatore come Osimène che toglie tutte le foto, anche quella dello scudetto del suo stato, vuol dire veramente che io voglio anche credere... Io voglio anche credere che sono abituati a fare questi scherzi su TikTok, ma non ci credo più forti di me. Secondo me è stata una situazione proprio studiata per evitare la pressione di Osimène nel firmare il contratto, cioè di non firmare il contratto, perché il gioco è quello, il contratto di Osimène che ancora deve essere firmato. Allora tu l'hai voluto, diciamo così, un po' inferire dicendo hai sbagliato il rigore, vuoi un sacco di soldi, aspetta un attimo. Ma già lui non lo firma con questa roba qua, non è che... Cioè lui lo indispettisce ancora di più, così facendo, no? E più lo perdi in campo, perché poi se questo magari è nervoso... No, io credo che adesso, vabbè, un po' con i risultati, un po' così, vedi, De Laurentiis è molto... Cerca veramente gli anni scorsi, quando aveva, per esempio, Giuntoli, e alcune scelte erano sempre le sue, ma poteva scaricare su qualcuno, era molto più incendiario con gli allenatori. Infatti su Spalletti è uscita una narrazione molto lunga, dall'anno prima, quando persero con l'Empoli, eccetera, che Spalletti gliel'aveva giurata. Con Gattuso fece fuoco e fiamme, invece adesso sta cercando di tenere l'ambiente compatto. Ha fatto un altro tweet questa sera, no? Dicendo da Bologna siamo proprio ripartiti, bravi tutti, dopo quello dell'altro giorno. E io credo che quindi adesso la cosa verrà sistemata, mi stupirei davvero se dopo sto casino arrivasse il rinnovo di Osimen, credo... Beh, farebbe abbastanza ridere, dopo anche le parole del procuratore Calenda, che... Esatto, esatto. No, credo che arriveranno a fine stagione, ecco. Però io mi sono permesso l'altra volta, quando ho giocato contro il Sassuolo, di far notare che questo è un Napoli completamente diverso da quello che abbiamo visto l'anno scorso. Sì, già che in un altro modo. Proprio nei meccanismi, e quindi io ho la mia idea che Garcian, forse a Natale non ce l'aveva neanche. Io penso che ormai l'ambiente si sia un po' anche rotto per quello della sostituzione, dell'elementere di Osimen, e anche l'ambiente stesso, che è un po', diciamo così, un troppo inferocito. Sì, però, lo dicevamo prima, cioè, su Garcian ci sono queste partite fino alla sosta per fare una valutazione, no? Real Madrid a più quelle del campionato. E sai, comunque se ha delle risposte alla squadra, arrivano i punti, credo proprio che non venga esonerato, capisci? Cioè, ci sono rumors, De Laurenti si guarda in giro, probabilmente qualche segnale lo dicevamo, in Francia hanno scritto di Galtier, vi ha raccontato noi qua, di Antonio Conte. Però, se la squadra si ricompatta, i risultati arrivano, non penso che butti a mare a metà stagione una scelta che ha fatto solo lui. Vabbè, è quasi obbligata, perché 5-6 allenatori prima gli avevano detto di no. Eh. Però, sì. Sì, no, beh, vorrebbe dire sbugiardare se stesso. Se è andato qui a risumare un allenatore che fondamentalmente del calcio che conta non c'era più da un po', quindi quello bisogna valutarlo, eh. Certo. Saranno tematiche interessanti anche perché poi c'è Lecce-Napoli, quindi una trasferta comunque non semplice, e poi c'è Napoli-Real Madrid di Champions League, eh, perché il Napoli ha vinto a Braga, non ha convintissimo, però si è portato a quota 3 punti. Quanto pesa l'assenza di Kim nel Napoli? Secondo voi? In fase difensiva. Credo tanto. Eh, appunto. E questo è di tanto. Uno dei motivi. Tra l'altro. Tra l'altro. No, il problema è che però tatticamente Garzia ha proprio sconfessato Spalletti, no? Che faceva un calcio di possesso nella metà campo degli avversari, di giro palla. Con i cambi che ha fatto tra Geno e Bologna ci ha messo anche del suo, onestamente, no? Nel tirarsi addosso valanghe di critiche. Certamente. Perché nel momento in cui togli Osimene e Quaraschella con partite che non stai vincendo, insomma, te le vai anche un po' a cercare, come si dice. No, cioè quello oggettivamente sì. Come interista, Filippo, sei più arrabbiato, dispiaciuto, preoccupato? Qual è il sentimento che ti porti via stasera? No, beh, preoccupato alla sesta giornata, no. Cioè, dopo cinque vittorie, no. Però, diciamo che se tu vuoi andare a vincere uno scudetto sarebbe meglio evitare di perdere punti e magari perdere addirittura i tre punti in casa col Sassuolo. Quindi, sai, negli anni scorsi abbiamo perso delle partite, abbiamo perso i campionati perdendo punti tanti contro le squadre di medio-bassa classifica e non vorrei che questa cosa si ripetesse quest'anno. C'è grande partita contro il Milan, grande partita con la Fiorentina, poi nel momento un pochino di calo vai a perdere punti, non so adesso, con tutto il rispetto che è una squadra molto buona, che gioca molto bene, con grande individualità, però se rapportiamo l'obiettivo dell'Inter e l'Inter con i punti che deve fare, in casa col Sassuolo non devi perdere. Non devi perdere mai, neanche stasera, devi vincere tutte, non ho capito. No, ma io infatti sono dicendo che una perda capitare, però certe partite non le devi sbagliare. C'è quello che dico io. Poi se vai a Sassuolo e pareggi, ma in casa, in questo momento devi sfruttare, che non è praticamente iniziata ancora la cera. Se c'era qualcuno che pensava che l'Inter avesse già ammazzato il campionato, non è così. Ma c'è, vabbè, ma non puoi ammazzare un campionato alla sesta palestra. Ma no, ma certo, ma anche se avessi vinto oggi nessuno ammazzava niente. perché bisogna metterlo, cioè. Ma è ancora questa storia. Voi siete l'ammazza grandi. In quattro giorni Juventus e Inter. Guarda che non tolgo nessun merito. Sto solo dicendo che non sono preoccupato, ma che bisogna stare attenti. Cioè dopo un inizio che era stato un po' disastroso, non ti tolgo il merito. Hai vinto meritatamente. Se vuoi te lo scrivo. Te lo scrivo. Hai vinto meritatamente, così non me lo ripeti più. Ah, ok. E te lo scrivo anche grosso. Inter ha perso il corso a suolo. Ha perso il corso a suolo in casa. Firmalo, firmalo così. Resta un punto esclamativo. Facciamolo vedere. Facciamolo vedere. Filippo Tramontana. Facciamolo vedere. Ha perso il corso a suolo in casa. C'è scritto, c'è scritto. Adesso posso fare un'analisi anche su altro? Va bene. Grazie mille a Filippo Tramontana, a Luca Bello. È stato un piacere. Ciao. Ragazzi.